Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la nostra unità sugli angoli e rette nel piano oggi andremo a vedere rette parallele e rette perpendicolari. In classe abbiamo già visto come si può disegnare la retta perpendicolare a una retta data e passante per un punto quindi facendo una costruzione geometrica usando righello e compasso. Oggi ci concentriamo su altre due costruzioni geometriche ovvero come si può disegnare una retta parallela ad una retta data passante per un punto e questa volta useremo righello e squadra, vedremo come e infine disegneremo quello che si chiama la proiezione di un segmento su una retta. Ma come da tradizione è bene iniziare con l'enigma del giorno. Leggiamolo insieme Questo enigma si chiama la sanatoria Andrea deve restituire 50 euro a Bruno e Bruno deve riavere 50 euro da Claudio Se Claudio desse 50 euro ad Andrea tutti i debiti verrebbero saldati? In questo caso io vi chiedo di mettere questo video in pausa discutere in classe quella che secondo voi è la soluzione di questo enigma e poi alla prima occasione vedremo insieme qual è la soluzione di questo enigma Allora spero che abbiate trovato la soluzione Per intenderci la risposta è ovviamente no Perché? Perché se leggete bene il testo in realtà Bruno deve ricevere in tutto 100 euro Deve ricevere 50 euro da Andrea e 50 euro da Claudio Claudio questi 50 euro se li dà ad Andrea non è che ha saldato il suo debito Diciamo il cerchio avrebbe chiuso se a questo punto Andrea desse 100 euro quindi 50 euro che ha avuto da Claudio e 50 che ancora deve dare a Bruno a Bruno Però questo passaggio da Claudio ad Andrea sicuramente non salda i debiti verso Bruno Bruno deve essere il ricevente di 50 euro sia da Andrea che da Claudio Allora cominciamo a vedere la prima costruzione geometrica di oggi ovvero come si disegna la retta parallela ad una retta data e passante per un punto Per questa costruzione geometrica abbiamo bisogno di due strumenti oltre ovviamente a un foglio di carta e una matita ovvero un righello ed una squadra La squadra è uno strumento molto importante perché permette di disegnare due linee tra loro perpendicolari E ora vediamo con ordine come si fa Quindi cominciamo con il nostro righello Quindi la prima cosa che voglio fare è disegnare una retta Va bene? Quindi ho il mio righello e lo sfrutto per disegnare una retta E vi ricordo sempre per indicare il fatto che la mia retta è una linea che si estende in maniera infinita faccio i puntini o i trattini all'inizio e alla fine della mia retta Eccolo qua E questa è la mia retta di partenza E come al solito la indicherò con una lettera per esempio R Va bene? E questo è il mio primo punto Poi ho detto Ok, voi sapete se ho una retta Esistono infinite rette ad essa parallele Va bene? Di queste infinite rette me ne interessa solo una Cioè quella che non solo è parallela a questa ma passa per un punto P E a questo punto disegno così a caso e questo chiedo di farlo anche a voi un punto P Chiaramente non appartenete a questa retta Quindi a questo punto mi domando Come faccio a disegnare utilizzando questi due strumenti una retta che sia parallela a R quindi una retta che sarà messa per così e che passi proprio per il punto P Vi chiedo di nuovo di mettere in pausa questo video e ragionare un attimo se riuscite a pensare già da soli come si potrebbe fare questa cosa Allora si procede nella seguente maniera Come vedete nel frattempo ho girato la mia squadra in modo da appoggiare uno dei due lati che formano tra di loro 90 gradi sul mio righello Quindi lo appoggio qui Dopodiché cosa fate? Quindi questa squadra la lasciamo dove era prima Prendo il mio righello e lo appoggio su quest'altro lato della mia squadra Quindi cosa che posizione ho adesso il mio righello? È una posizione che è a 90 gradi rispetto alla mia retta di partenza quindi se io disegnassi in questo momento una linea che passa per di qui disegnerei una linea perpendicolare una retta perpendicolare alla mia retta di partenza A questo punto cosa faccio? Riprendo la mia squadra la ruoto in modo da appoggiarla di nuovo al mio righello ma a questo punto devo fare in modo che l'altro lato della mia squadra passi proprio da P Quindi ho fatto Prima ho appoggiato la squadra sulla retta di partenza Poi ho messo la retta in maniera perpendicolare Ora a questo punto prendo il mio righello lo raddrizzo di nuovo e lo appoggio su questo lato della mia squadra a questo punto la squadra la posso togliere e posso disegnare la retta parallela e ora disegniamo appunto la nostra retta che chiameremo retta S Notare come questa costruzione funziona a prescindere da come avevo disegnato la mia retta R di partenza Ora in questo caso l'ho disegnata perfettamente orizzontale ma anche se era obliqua o perfettamente verticale questo sistema utilizzando il righello e la squadra mi avrebbe comunque permesso di disegnare una retta S parallela alla retta R passante dal punto P La seconda costruzione geometrica di oggi si basa anch'essa sul utilizzo di righello e squadra e si tratta di trovare la proiezione di un segmento su di una retta a questo punto però poi si tratta di capire che cos'è la proiezione però cominciamo di nuovo con il disegnare una retta va bene quindi ho posizionato il mio righello ho la mia matita e disegno una retta che ancora una volta chiamerò R dopodiché voglio disegnare un segmento un segmento chiaramente che non appartenga alla retta R quindi cosa faccio prendo la mia riga la inclino un po' per fare un po' un segmento qualsiasi e disegno un segmento questa volta notate non sto disegnando i puntini prima e dopo perché questa non è una retta è un segmento quindi è una porzione di retta che ha un inizio e una fine cioè ha degli estremi questi estremi li chiamerò come si fa di solito con le lettere maiuscole A e B ecco a questo punto va specificato che cos'è la proiezione di un segmento su di una retta ecco la proiezione va pensata un po' come una specie di ombra cioè immaginatevi che questo sia il terreno e questo sia un oggetto opaco immaginatevi che sia della luce che arrivi da sopra proprio in questo caso verticale in generale deve essere perpendicolare alla mia retta allora cosa farà questa luce verrà bloccata in corrispondenza di questo segmento e quindi proietterà un'ombra sulla retta R quindi la proiezione può essere vista un po' come l'ombra del segmento A B sulla retta R vediamo ora come costruirla di nuovo utilizzeremo la squadra e il righello allora in questo caso il passaggio è anche più semplice perché cosa faccio riposiziono il mio righello così come lo avevo utilizzato per disegnare la mia retta R prendo la mia squadra ecco in questo caso la costruzione è più semplice rispetto a quello che abbiamo visto nell'esempio precedente perché cosa mi basta fare basta piazzare il righello in corrispondenza della mia retta R poi prendo la squadra la ruoto di nuovo in modo da piazzare uno dei lati perpendicolari lungo la mia retta ma in questo caso la piazzo anche in modo che l'altro lato passi proprio da uno degli estremi del del mio segmento e a questo punto con un tratto di matita più sottile più leggero rispetto a quello con cui avete disegnato sia R sia segmento AB vado a tracciare la mia prima costruzione cioè quella che sarebbe uno degli estremi una delle proiezioni dell'ombra eccolo qui bene e il punto che vado a individuare sulla retta R lo chiamerò visto che questo era il punto A lo chiamerò A' ripeto questa procedura spostando semplicemente traslando la mia squadra sempre lungo la retta fino all'altro estremo del segmento AB vediamo se riesce a farlo per bene ecco qui e di nuovo traccio la linea di costruzione e come prima usando lo stesso sistema prima questa volta chiamerò B' il segmento A' B' che tra poco vado a evidenziare sarà appunto la proiezione del segmento AB sulla retta R perché piaccimelo vado a evidenziare questa questa proiezione eccola o esagerando ma insomma ecco fatto ok quindi A' B' è la proiezione del segmento AB sulla retta R poi che aspetto avrà questo dipenderà un po' quanto lungo avete disegnato AB quanto è inclinato rispetto alla retta R una cosa che dovreste notare subito è chiaramente che la proiezione non è lunga quanto il segmento e più questo segmento sarà inclinato rispetto alla retta R più corta sarà la proiezione fino al caso estremo in cui se il segmento AB è esattamente perpendicolare alla retta R la proiezione si riduce ad un punto solo nelle prossime lezioni vedremo altre costruzioni geometriche ma per oggi è tutto arrivederci da Mr. Boschetti